Mi chiamo Violetta Parra. Cerco una signora di nome Miguelina, però non so dove vive. E perché? Perché mi insegna a cantare. Poetessa, cantante e autrice. Sperimentatrice, tessitrice, artista plastica. Eccola! Ho il piacere di presentarvi la cilena Violetta Parra. Un grande applauso! Lei è riuscita a esporre le sue opere al Museo del Louvre, a Parigi. Sì. E la critica e il pubblico di Parigi l'hanno accolta bene? Très bien. Avanti, cammina! Chi cerca trova, ricordati. Non si preoccupi. L'università del folklore è in questo tendone. La creatività è un uccello senza un piano di volo che non volerà mai in linea retta. E' solo quello che sento io in questo intanto fecuito. Si va enredando, enredando, come nel muro la iera. Ma non si spaventi, non ho intenzione di chiederle l'età. No, non si preoccupi, non mi offenderò per questo. Ah, benissimo. Quanti anni ha? Oggi non me lo ricordo. È un bel mojito in la piedra, e ai si, si, si. E un bel mojito in la piedra, e ai si, si, si. E un po' di minuto. Il Wolfgang È un po' di minuto. È un po' di minuto. Io ho intenzione di un po' di minuto.